Buongiorno a Massimo Guerrieri che è titolare di Q Consulenze Finanziari, bentornato. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti. E buongiorno ad Antonello Cattani, responsabile della formazione. Buongiorno a tutti. Allora Guerrieri sta per finire l'anno, quindi la prima cosa che le voglio chiedere è qual è il bilancio dal punto di vista dell'economia di questo 2023. Partiamo con un dato positivo, la disoccupazione USA, quindi in America è in calo e questo ci dà la dimostrazione di un'economia forte. Nonostante l'aumento dei tassi e quindi l'impressione proprio che si stia andando verso una soft landing, quindi un atterraggio morbido della crisi economica dovuto proprio a questo aumento dei tassi e dall'inflazione. In sottofondo purtroppo rimane sempre la guerra in Ucraina e ultimamente anche la guerra in Israele. Vediamo come qui da noi in Europa la Germania si sta avviando verso il secondo trimestre consecutivo con un segno meno relativo al pile appunto tedesco. Di conseguenza si può parlare di una recessione proprio tedesca e in area euro, dovuto proprio a questa difficoltà della Germania, si sta evidenziando sempre di più come la peggior area a livello mondiale da un punto di vista proprio dell'economia. Questo però sta facendo simile, le aspettative sono queste, che ci sia una pausa in questo aumento dei tassi proprio per dare fiato alle aziende che ovviamente hanno necessità di finanziamenti. E vediamo come questa pausa e anche queste attese poi di calo dei tassi del prossimo anno stia ridando fiato alle borse che stanno rimbalzando. Quindi questa è un po' la situazione, invece Cattani più nello specifico dal punto di vista degli investimenti cosa sta succedendo e come si prospetta il 2024? Sì, allora come dicevamo adesso, vediamo in questo articolo, le borse, parliamo principalmente delle borse americane che ricordiamo però l'America a livello finanziario, a livello mondiale, è presa da un 60-70%, quindi sicuramente è una componente importante. Quindi sono borse vicine ai massimi storici toccati più o meno due anni fa e a cos'è dovuto questo rialzo? È un po' quello che abbiamo detto, quindi c'è un'aspettativa di calo dei tassi che però è da confermare, quindi il fatto che l'inflazione sia rientrata entro valori, diciamo, più o meno da dove era partita due anni fa, fa sì che i mercati si attendano a questo anche se ufficialmente nessuna banca centrale si è pronunciata. E dall'altro appunto questo scampato pericolo di una possibile recessione mondiale che si prospettava, che al momento è evitata, diciamo che sta dando fiato alle borse. Non dimentichiamo che i mercati anticipano già, diciamo, degli scenari futuri. Se volessimo così addentrarci nelle previsioni, consapevoli che fare previsioni sempre in campo finanziario è quasi impossibile, qua vediamo alcuni dati, alcune società di investimento, quindi alla domanda dove saremo fra un anno, quindi la risposta che tutti vorremmo avere, perché se avessimo, saremmo tutti ricchi, diciamo che come vediamo le previsioni sono molto discordanti, cioè c'è chi va da una previsione di un più 11%, quindi un ulteriore aumento dei listini azionari, e chi invece prevede un meno 8%, quindi diciamo che all'interno se andiamo a vedere dal punto, dalla più ottimistica alla più pessimistica, c'è circa un 20%, perché da un più 11%. Non è poco, non è poco, infatti fa previsioni quasi, non dico impossibile, però è molto difficile. Una certezza che invece accomuna tutti è quella che in questo range di possibile oscillazione, quindi da un più 11% a un meno 8%, in mezzo c'è quella che si chiama volatilità. Cos'è la volatilità? Sono proprio le oscillazioni che hanno i mercati, i mercati di tutti, quindi non solo quelli azionari dove siamo abituati, ma anzi negli ultimi due anni abbiamo invece assistito a forti oscillazioni, ne abbiamo parlato in altre puntate, delle obbligazioni, perché anche quelle nel corso della loro vita hanno oscillazioni che oggi stanno preoccupando molti risparmiatori dovuto all'aumento dei tassi. A livello azionario, quindi questa volatilità, quindi da un più 11% a un meno 8%, sicuramente la si può vivere in due modi, la si può cavalcare, quindi con una programmazione si possono sfruttare proprio queste variazioni che hanno i listini, o la si può subire se non si programma e quindi si fanno investimenti lasciandoli lì senza che nessuno li verifica. Quindi i due scenari ovviamente sono completamente diversi. Ecco, scenari diversi, scenari, lei accennava prima guerrieri anche alle crisi, all'instabilità legate alle due guerre, e ci sono in particolare, ecco, in questo scenario cosa si può fare? Ci sono ancora i beni rifugio a cui attaccarsi? Sì, qui la storia o i dati ci vengono in aiuto. Vediamo che in questi ultimi dieci anni, ma in particolar modo proprio in questi anni di forte instabilità, i due asset che sono stati privilegiati, proprio usati come beni rifugio, sono stati il dollaro, proprio come valuta, e l'euro, che è una valuta ma è proprio il beni rifugio per eccellenza. Se andiamo a vedere il grafico, ecco questo, in questa diapositiva, ad esempio vediamo come il grafico del dollaro con la volatilità, del caso di cui accennava Antonello prima, ha avuto in questi ultimi dieci anni un incremento del 27%. Lo stesso vale per l'oro, quindi l'oro da investimento, parliamo proprio del classico lingotto d'oro, ha avuto un incremento del 71% in questi ultimi dieci anni. E vediamo come anche le banche centrali, e questi sono proprio gli acquisti delle banche centrali, vediamo come dal 2008 in poi sono diventate forti acquirenti del metallo prezioso, del beni rifugio, dove l'anno scorso è stato un anno record, vediamo proprio l'ultima gamba della diapositiva, e anche quest'anno si appresta a essere un anno record, quindi battere lo scorso anno. Cos'è un po' su cui dovremmo riflettere? Noi analizzando i portafogli dei nostri clienti, quindi abbiamo proprio sotto mano anche le scelte di investimento dei nostri concittadini, vediamo come questi due asset sono veramente poco presenti nei portafogli. Quindi la vera domanda è se io, sono tempi come abbiamo visto ancora fortemente incerti, e gli investitori a livello mondiale, a partire proprio dalle banche centrali, si concentrano nell'acquistare questi asset perché noi reggiani nei nostri portafogli ne abbiamo comprati pochi, poi insomma chi ci ascolta lo potrà verificare nei propri portafogli. Quindi ecco, un pochino la considerazione da fare è al di là di quello che succederà domani, perché se io ho un asset che mi garantisce sicurezza e rendimento come l'abbiamo appena visto, perché io nei miei portafogli finora ne ho avuto, ne ho acquistato poco, ne ho veramente in percentuali minimi. Ci sono anche alcuni messaggi, tra poco li leggiamo, prima però volevo chiedere ad Antonello Cattani, quindi quali consigli, cosa possono fare gli sparmiatori, considerando appunto questo scenario? Il consiglio è quello di seguirci, seguirci sia attraverso gli appuntamenti mensili di Telereggio, sia in presenza, quindi abbiamo fatto, ottobre e novembre è avuto un'attiva presenza anche in corsi, quindi corsi di formazione, li abbiamo fatti parecchi. A dicembre chiuderemo l'anno, prima delle vacanze di Natale, con l'appuntamento mensile a cui invito chi vuole a partecipare, quindi venerdì, questo venerdì 15 dicembre alle 17.30, un'oretta, presso l'Unità in via Roma, quindi parleremo proprio di queste tematiche, quindi dove investire nel 2024, come pianificare le nostre risorse, quindi questi argomenti di cui stiamo parlando adesso li approfondiremo, diciamo anche in presenza, rispondendo anche alla domanda di chi può intervenire, quindi un appuntamento mensile a cui invito a partecipare. Consiglio pratico, a costo di ripeterci, lo diciamo tutte le volte, ma perché è importante, è quello della pianificazione, quindi al di là di cosa fare, quindi non è previsione, abbiamo visto, ma che sono molto discordanti, quello che è importante fare è una pianificazione finanziaria, cosa che noi vediamo che molto spesso non viene fatta. C'è una cosa così, insomma, graficamente anche, fatto all'intero del nostro patrimonio, Esatto, quindi non considerare solo l'aspetto finanziario, che è ovviamente importante, ma anche l'aspetto noi, le persone, l'aspetto di protezione, l'aspetto di pianificazione in tutto, a 360 gradi, proprio come diciamo, e questo per ottimizzare, ridurre i rischi del portafoglio, quindi analizzare i rischi che abbiamo, ottimizzare i costi, quindi questa è una voce che spesso vediamo che toglie risorse ai risparmi e quindi anche ottimizzare, diciamo, i nostri investimenti, quindi raggiungere quegli obiettivi di vita che si raggiungono attraverso la nostra posizione finanziaria, quindi questo è il consiglio che noi diamo, che sembra una cosa facile e banale, ma in realtà pochi lo fanno e non lo fanno magari in modo corretto, quindi questo è il nostro aiuto che noi possiamo dare effettivamente ai risparmiatori. Quindi voi fate una sorta di analisi che tra l'altro in prima battuta è gratuita, no? Sì, noi proponiamo questo check-up, se vediamo la diapositiva, che proprio va a focalizzarsi su questi tre punti, quindi analisi del rischio, analisi dei costi, l'ottimizzazione dei costi e rendimenti, proprio per evitare perdite, che oggi vediamo purtroppo presenti negli investimenti dei risparmiatori che ci contattano, e quindi questo check-up è gratuito, quindi può essere richiesto contattandoci ai nostri riferimenti e serve proprio per fare il punto della situazione e del punto di partenza, quindi per aiutare i nostri telespettatori e cittadini per pianificare al meglio le proprie risorse. Cioè in modo scientifico, sostanzialmente. Allora, intanto ci sono alcune domande. Una persona ha chiamato e chiede come vanno i BTP a 5 anni, guerrieri? Come diceva Antonello prima, anche i BTP non sono esenti dalla volatilità e di conseguenza se fino ad oggi abbiamo assistito a un aumento dei tassi record come velocità di aumento e quindi il BTP essendo, generalizzo ovviamente non sapendo il tipo di BTP, un titolo di Stato a tasso fisso, quindi quello che varia è il prezzo, quindi se i tassi aumentano i prezzi calano. Quindi quasi tutti i BTP in questo momento sono in calo, quindi anche chi ha comprato un BTP non solo 5 anni fa, ma anche in questi ultimi 1-2 anni, essendo aumentati i tassi in maniera abbastanza, non di che esponenziale, ma in maniera importante, anche i prezzi sono calati. Oggi con le aspettative, come dicevamo, che i tassi non crescano più, anzi si inizia a parlare, poi vedremo le banche centrali al di là che si dovrebbero esprimere in questi giorni, ma che nella seconda parte del 2024 inizino poi invece a calare i tassi, quindi poi ecco i prezzi in questi ultimi giorni hanno rialzato la testa e quindi si sono un attimo risollevati, ma rimangono sempre negli ultimi due anni con rendimenti negativi. Un altro, più che una domanda, è un'affermazione, il signore dice il settore immobiliare preoccupa molto, vedi Asia e Austria e Germania, è così anche da noi? Sì, ha ragione, sì, sì, anche da noi è uguale, le previsioni non sono ottimistiche sul settore immobiliare. Ecco, visto che questo è con voi, l'ultimo appuntamento dell'anno, Guerrieri, prima di salutarci, qual è l'augurio che fai ai telespettatori, e anche un consiglio per prepararsi a questo 2024? Beh, innanzitutto ne approfitto, perché poi non so se c'è tempo, per augurare a tutti delle serene festività di Natale, oggi anche Santa Lucia, e quindi è bene che riscopriamo un po' anche le nostre tradizioni e fare festa, specialmente appunto con i più piccoli. E poi ecco, se noi ci vogliamo fare un regalo proprio per vivere in maniera più serena, perché vediamo come anche qua la storia ce lo insegna. Noi viviamo in un mondo che è incerto per definizione, la stessa morte è incerta, noi vediamo proprio come diceva Antonello che la cosa migliore è non solo conoscere, ma poi pianificare, quindi anche fare un piano finanziario. Ovviamente noi parliamo per quanto concerne gli investimenti, ma in un contesto come quello che stiamo vivendo con ancora un'alta inflazione, avere la sicurezza di raggiungere i propri obiettivi di vita, perché si sono pianificati prima e diventa una cosa molto ma molto utile che dà molta serenità. Poi è chiaro che una volta che si è fatto, poi si può andare a ragionare dove sono le opportunità. Abbiamo visto che, noi lo diciamo sempre, ma adesso anche i dati ce lo dicono, come a fronte appunto in questi anni le azioni e le obbligazioni hanno avuto dei forti scuotimenti con anche dei segni meno importanti, come già l'oro e il dollaro, invece si sono rivalutati dando sicurezza, ecco, quindi dove ci sono rischi ci sono anche opportunità, però ecco, io proprio invito chi c'è a casa a prendere seriamente il piano alla pianificazione, fare un piano finanziario legato agli obiettivi di vita, insomma, in modo che si viva il più serenamente possibile non solo le feste, esatto, non solo le feste, ma proprio anche... Ma tutto l'anno. Tutto l'anno, sì. Allora, prima di salutarci, rivediamo il programma del vostro incontro il 15 dicembre 17.30 via Roma, Reggio Emilia, meglio iscriversi. Sì, sì, si può fare anche sul momento, quindi... Quindi potete anche decidere. Io poi Susanna volevo ricordare a chi ci ascolta non solo il nostro incontro, che quest'anno è mensile, più o meno a metà del mese, quindi ci rivedremo a metà gennaio, sì, il mercoledì del metà del mese, ma anche iscriversi al nostro canale YouTube, quindi Q Consulenze, perché lì noi pubblichiamo tutti gli interventi che facciamo proprio qui a Telareggio, non solo a Buongiorno Reggio, ma anche le pillole di alfabetizzazione tutti i venerdì nella trasmissione d'Aria Vere, per chi se li dovesse perdere sul canale YouTube li trova tutti, proprio suddivisi anche per argomento, insomma, iscrivetevi al canale YouTube, oltre che ovviamente non esitare a chiamarci coloro abbiate dei dubbi. Siete molto social, Facebook, Instagram e anche LinkedIn, quindi ci siete, siete presenti. È d'obbligo. Grazie, grazie mille per i vostri consigli e buon Natale, buon anno. Grazie Susanna. Ci vedremo appunto all'inizio dell'anno, tornerà la rubrica.